Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono Green97 e siamo qui con un ennesimo musical video prima di iniziare citerei che lasciaste un bel mi piace su questo video e dunque andiamo avanti quest'oggi vi presento un nuovo strumento fatto in casa il low whistle che sarebbe diciamo un team whistle sempre della team whistle solo che è basso quindi si chiama low whistle sempre un team whistle è solo che è basso e quindi viene chiamato low whistle questo è l'od in re maggiore adesso ve lo faccio sentire l'uomo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi avviso che tra un poco arriverò a 50 iscritti. Quindi io farò uno speciale 50. A 50 iscritti farò un video speciale tipo un blog o qualcosa del genere. Ma voi suggeritemi quindi commenti cosa fare per questo speciale 50. Questo video dunque può terminarsi qua. Spero che vi sia piaciuto. Mettete like, condividete su Facebook. E se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Dunque io vi saluto. Vi abbraccio forte. Ci vediamo. No vai you.